Fratello teatro, fratello maggiore di tutta la cultura italiana. Il teatro, un luogo dove si raccontano storie, dove l'attore è solo sul palcoscenico, con le scene e la quarta parete, che divide l'attore dal pubblico, sacra, inviolabile. La quarta parete è qua, oltre la quarta parete, l'attore è solo. Scusa signor, scusate di salvare, scusate di salvare, grazie signor, grazie signor, ciao, abbrudìa signor. Scusate di salvare, io lavoro a casa del signore, due botte a settimana, lavoro a giudì signor, e il giorno dopo, il giorno dopo, due botte a casa di lui, iblici, e dopo, a casa di piano di sotto, c'è generale. Siamo a teatro, Ariel, siamo a teatro. Sì signor. Con chi stai parlando? Quella gente che batte le mani signore, gente. No signore, cosa fai, cosa fai, no signore, ti ripeto la domanda, siamo a teatro, siamo a teatro? Sì signor. Con chi stai parlando? Con la gente signore. Quale gente? Gente che sta qua, tutto rotondolo, 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 signore. E rotondolo, non c'è nessuno qua, non vedi? Guarda bene. Ieri, vedi, c'era gente qua signore. Ti ripeto la domanda, siamo a teatro? Sì signore. Guarda bene. Guardi bene. Cosa vedi? Lì c'è un signore con la camera. Lascia scacare la camera. Sì signore. Allora, per favore, siamo a teatro. Sì signore. Cosa vedi davanti a te? Guarda bene. La signora è suggerita però, non è a vale, scusate. Quale signora? Quale signora? Non c'è nessuno davanti a te. Come non c'è nessuno? C'è gente. Ma quale gente? C'è nessuno, guarda bene, non c'è nessuno, che siamo a teatro. Sì signore. Vedi la gente? Vedi la gente? Perché è pericoloso signore. Allora, siamo a teatro. Sì signore. Qua davanti a te, eh? C'è la quarta parete. Chi c'è? La quarta parete. Hai capito signore? Hai capito chi c'è davanti a me? La quarta parete, la vedi? No signore. Non la vedi? No signore. Non la vedi? Un pochetto sì signore. Ma meno male, guarda. Sì signore. Ma no, siamo a teatro. Sì signore. Meno male, non la vedi la quarta parete? La vedi? Perché ho pensato che la vedo solo io. Certo signore. Che soffesso che la vedo solo io. Pure io l'ho pensato, se la vedo solo lui è pesa, l'ha detto pure io. No, nel senso che, essendo a teatro, la quarta parete, se la vedessi solo io, sarei un fesso. Invece la vediamo tutte e due, siamo tutte e due? Fesso signore. No che fessi! No. È il cento per cento del palcoscenico che vede la quarta parete. La quarta parete. Sì signore. La vedi? Sì sì. Guarda la quarta parete. Bella signore. Ti piace? Tanto signore. Eh, guarda che bella. Bella. E di che colore è? Che colore è? Sì signore. La domanda l'ho fatta io. Di che colore è la quarta parete? Io devo dire che colore è. Ecco, la domanda l'ho fatta io. Dai, su. Io dici che è blu signore. Blu. 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 Ecco, faccia la quarta parete blu. L'ho detta apposta io signore. Dai su, di che colore è la quarta parete? Fuschia signore. Colore fuschia. 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 Fucsia? Sì signore. Faccia la quarta parete fucsia? No signore. Ma no, dai, guardala bene. Guarda bene. Guarda bene, è già? È già? È già? È già? Dico è già? È già fatta signore. Ma che è già fatta? È già, è già lì? Già lì da prima. No, già lì da prima. C'era già da prima, io non l'ho vista, però c'è signore. È giallina? No, non c'è più adesso. No, non c'è più, è giallina, colore. Ah, è giallino colore. Guarda che bel colore è giallino. Io non l'avevo capito, è giallina signore. Hai capito? Ti piace? Bella signore. E questa è una quarta parete, siamo a teatro, c'è la quarta parete. E cosa c'è qui sulla quarta parete? Qua che c'è sulla quarta parete? Qua che c'è sulla quarta parete? Qua che c'è sulla quarta parete? C'è un bucolo rotondolo là signore. Che è bucolo rotondolo? Bucolo rotondolo signore. Bucolo no, senza lo, 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 bucolo no, Bucolo no, rotondolo nemmeno, non c'è il lo, buco rotondo casomai. Ma no signore, qua c'è una parete, c'è un barometro. Un burrolo, sì signore, sì signore. Barometro, sai cosa serve il barometro? Sì lo sai signore, a misurare le bare signore. Il barometro serve a misurare il tempo, non le bare. Il barometro serve a misurare il tempo o l'orologio misurare le bare signore. No signore, qua c'è un barometro. E qua sulla quarta parete cosa c'è qua? Sulla quarta parete? Un signore con gli occhiali. No signore, c'è un porto ombrelli. Che sembra un signore con gli occhiali, se lo vede uguale. Assolutamente no, perché se la quarta parete è qua, qua è una cosa fisica. Guarda che succede, fammi andare avanti, vada avanti signore, dimmi di andare avanti, guarda che succede. Vada avanti signore. Ma non così, una cosa un po' più educata, più gentile, non così. Vada avanti signore. Ma che sono una gallina, che è? Vada signore, è una cosa sempre con la mano così. Vabbè, guarda che succede, guarda, io vado avanti, guarda, vado eh. Pum, via porca miseria. Lo vedi che succede, sa? Spiegarti le cose. Mi sta scendo il sangue, vedi un po'. Mi sta scendo il sangue, vedi un po'. Scusa signore, scusa, che ti sei fumato l'insalata tua, quella che sta a fighi di pari signora? Sì, zitto. La bustina tua, sì, silenzio. Sì, silenzio. Ne sa nessuno, signora. Sì, silenzio. Sì, il segreto è solo io. Silenzio. Quella non si mangia, si fuma solo. Silenzio, zitto, guardiamoci negli occhi e diciamo, non è vero. Non è vero, però la fumate. Silenzio per favore. Era per farti vedere che c'è la quarta parete, è una cosa fisica, sacra, inviolabile, a teatro. Siamo a teatro, perdiana. La quarta parete, certo. C'è, signore. Eh, la gente non c'è. A teatro. Scusa, e questo chi è? Guarda, chi è questo? Guarda, io la vedo sta qua. Questa è una signora vera, viva. Questa è un po' meno, però la gente c'è. Per favore. Per favore, sì, per favore.